Presentata oggi la stagione teatrale della Rete Teatrale Aretina, tra l'altro anche con questo rinnovo di un percorso triennale di residenza artistica. Sì, siamo a un giro di boa, è finito il primo triennio sperimentale e inizia un nuovo triennio del riconoscimento da parte della regione toscana come residenza artistica culturale multipla, si chiama così, che noi amiamo definire residenza artistica diffusa perché si tratta della diffusione in un territorio ampio che è quello della provincia di Arezzo con sei compagnie teatrali che operano in otto teatri della provincia con questo spirito appunto della residenza. Quindi quest'anno l'immagine che abbiamo voluto dare è quella dei teatri abitati perché le nostre compagnie di fatto abitano e fanno dei teatri del territorio la propria residenza, la propria casa. Un'altra iniziativa interessante è quella degli spettatori erranti, di cosa si tratta? È praticamente un gruppo di spettatori, di cittadini che si autodefiniscono spettatori consapevoli, spettatori organizzati che scelgono un proprio cartellone tra i cartelloni dei sette teatri della provincia di Arezzo andando a individuare appunto alcuni spettacoli creandosi una propria stagione che è trasversale. Quindi errano, girano per tutta la provincia incontrando anche, facendo anche attività collaterali alla visione dello spettacolo che sono l'incontro con le compagnie, con i registi. In due parole, quali sono a suo modo di vedere le sfide del teatro nel territorio aretino? Io penso che la nostra esperienza dimostri quanto il teatro che si cala in una comunità, il fatto che i nostri teatri sono tutti in piccoli centri della provincia di Arezzo, il teatro diventa il fulcro della vita culturale del paese, diventa un luogo vissuto appunto in questo senso, abitato, che si rapporta con il territorio, sia con il tessuto economico, sia con il tessuto sociale, che culturale, con la scuola, così come con le istituzioni e con i cittadini.